Raccontimi che... eh? Eh si eh! Naturale! Oh mamma ti sto parlando eh! Sii? Cosa sei? Tutti i te discorsi! Eh certo! Cosa c'è? Non posso dire che gli faccio un braio! E allora! E poi basta così mica! E basta! Finito il discorso! Era lungo eh! E' un po' stanco! Sei stanco? E' un discorso un po' lungo da fare vero? E' una questione lunga! E' via! Ehi! E? Sei stanco! Sei tanto stanco! Da questo discorso! E' vero! Vedi babbo come sono stanco! Ehm! Ciao Miche! Oddio che cos'è questa cosa? Ogni po' salta fuori eh! Ma! Non si capisce! E' mai garbata! Non la devo guardare babbo! Non la devo guardare lì! Eh Miche! Mi racconti a babbo! Eh? A babbo! A babbo! Non mi racconti nulla! Non mi racconti! No! Non è nemmeno! Eh! E' certo! Ehm! Eh! Sii eh! Ehm! Ehh! Sii eh! Che mega discorsone! 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 Che mega discorsone!